Montecchio Marittima is good for you, questa sera c'è 90 Wonderland, sono qui con il frontman ufficiale Alberto Ruffo, ciao Alberto Ciao Matteo, ti ricordavo la radio, adesso invece in tv ma del resto con un fisico così può accompagnare il suono Allora con Alberto abbiamo iniziato in radio tanti anni fa insieme, tra l'altro anche con Is Good For You, siamo passati nella televisione e questa sera vediamo le immagini di questa straordinaria festa che è Montecchio Marittima ma soprattutto un sabato firmato 90 Wonderland Beh sì, allora ci si aspetta un sabato da paura ed è già piena la piazza e dobbiamo ancora iniziare quindi 90 Wonderland questa sera sarà sicuramente un successo come del resto tutti gli eventi di Montecchio Marittima Allora ti seguiremo, faremo vedere le immagini più belle su questa clip, state con noi, grazie Alberto Ruffo Grazie a te, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti